Paolo Paoli News, iscriviti al canale, mettete mi piace e non mi piace, condividete e commentate e seguite le pagine Facebook, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao a tutti amici e benvenuti nella seconda puntata di Mario Cartotto Relax! Oggi recensiremo prove a tempo con Mario! Prove a tempo è questo, vero? Bene! Aspetta scelgo Mario! Ecco Mario! Pronto Mario? Allora queste sono le prove a tempo, sono delle prove a tempo che si possono fare al caldo! Allora, devi ritirare! E provo quello che non l'ho mai fatto! Allora, c'è la corsa fantasma, la corsa individuale... Poi c'è il vedi fantasma, altri fantasmi e carica fantasma... Meglio scegliere il vedi fantasma... Meglio scegliere la corsa individuale... Meglio scegliere il vedi fantasma... Meglio scegliere il vedi fantasma... Meglio scegliere il vedi fantasma... Questa è la mappa... Che si può mettere la mappa da qua, da qui, da qua... E abbandona... Scusa se ho detto auto-channel... Lo so, lo so... Va bene... Ci vediamo dopo! Bene ragazzi, guarda... Ho fatto un nuovo record... Ho fatto cazzare... Ho superato Wario, lo so... Ma... A volte... Quando gioco con le prove a fantasma... Prove a fantasma... Prove a tempo... Sono difficili da superare gli avversari coglioni... Ok? Bene... Adesso ti faccio il replay... Ah si... C'è anche voi... Caricare i nuovi dati fantasma... Potrebbe esserli si ma no... Vediamo l'episodio! La 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 la... Oh... Oh... Ok, ok... Meni vada... La 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 la... La 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 la... Siiii... Si... Ci sono anche delle lampe e cose... Vero Mario? Certo commentatore... Certo! Si... Vai... Continua Mario... Continua... Non fermarti... Dai Mario... Dai Mario... Go... Go... Siamo al secondo giro Mario... Siamo al secondo giro... Bene... Si scaldano i motori per Mario... Via... Dai Mario... Dai Mario... Dai Mario... Siamo al terzo giro... Non fermarti Mario... Siamo al terzo giro... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo so, vediamo. E nella prossima puntata faremo veramente la battaglia reale, stavolta con Bowser il coglione. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Mario Kart 8 The Last. Ciao! Onkydonky! NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Grazie a tutti Grazie a tutti